buon anno a tutti benvenuti nel 2021 che speriamo possa essere migliore del 2020 speriamo possa davvero regalarci un sacco di emozioni un sacco di riaperture dei bar dei ristoranti dei negozi in generale un sacco di ripresa economica per chi ha un'attività che possa riprendersi assolutamente questa è la cosa che mi sta più a cuore di tutte davvero oggi parleremo però dell'e-sport un qualcosa che non ha non ha proprio trovato crisi l'anno scorso e che non troverà crisi nemmeno quest'anno e negli anni a venire allora oggi sono messo in questa posizione con il volante il volante ferrari replica f1 2011 quindi la f150 di trasmaster in bella vista perché in questa zona comunque vedrete più di 50 domande che mi hanno fatto quindi oggi vedrete me che rispondo a le domande che ho selezionato erano più di 250 300 domande tutte molto simili comunque quindi queste 50 le racchiudo un po tutte e alcune domande che mi potreste fare voi la prima domanda ce la fa il buon daniele enrico quanto ti sei allenato per raggiungere questo obiettivo te lo chiedo perché pur di riuscire a diventare un pilota e-sport mi sto allenando ogni giorno sempre di più specifica ogni giorno quanto di più quindi magari qua sotto nei commenti dimmelo mi sono allenato tantissimo ma meno di quello che effettivamente servì serve adesso per competere nell'e-sport perché comunque io e dieci anni che guido nel virtuale sono dieci anni veramente tantissimo tantissimo tempo se ci ripenso e le prime competizioni sono arrivate intorno al 2016 2017 le competizioni quelle la fatte ad hoc mi allenavo tanto quando avevo 12 ai 16 17 anni poi nel 2017 col fatto che lavoravo in fabbrica facevo video su youtube mi tipo un euro un'ora e mezza due ore al giorno soprattutto la cosa più bella è che mi allenavo quando facevo le carriere quando facevo queste cose qua quindi è un una cosa una cosa molto particolare tommaso bettoni come si fa ad entrare nel team ovviamente qua rifinito nel team ferrari esport devi essere selezionato devi essere scelto da chi si occupa di selezionare giovani talenti o comunque dei talenti ovviamente gli anni passati c'era il prodraft dove formula 1 ti chiedeva ti imponeva in realtà di sceglierne almeno uno del prodraft perché naturalmente c'era la fase di qualificazione e uno che si qualificava alla finale almeno poteva essere scelto almeno una volta almeno da da uno dei dieci team ecco insomma nome improponibile mi fa una bellissima domanda voglio iniziare a gareggiare online il consiglio mi daresti essere il più preciso possibile non fare quello che butta fuori ma sarà prima cosa che dovresti fare credo che andare a caso online non sia proprio esattamente la la cosa migliore da fare quindi ci sono tanti forum su facebook o se vai anche su google dove puoi scrivere f1 2020 forum ita magari se vuoi italiano assetto corso competizione forum i campionati sono la scelta migliore secondo me perché lì puoi proprio focalizzarti su una gara settimana per settimana due settimane perché comunque hai la possibilità di allenarti solo su una pista e non andare a casaccio nelle lobby classificate no o non classificate insomma ciao giosuè allora ciao amos mi puoi dire se cc c'è gente più sportiva che sulle classificate di formula 1 perché ogni volta che provo a sorpassare un pilota mi sbatte fuori volontariamente e mi incazzo ovviamente sì e no i racing un'altra roba però i racing dovrebbero essere più genuine le persone più sportive perché pagano un po' un bel po' in realtà non sono così perché evidentemente c'è questo nervosismo dal fatto che io spendo tanto voglio avere tanto non posso superare allora butto fuori su forum 1 però sì c'è un livello peggiore ma semplicemente perché è un gioco che hanno più persone più persone ci sono dentro un qualcosa più quella cosa può essere distruttiva quindi è una cosa abbastanza normale tac quando si potrà potrete andare a vedere le gare di f1 reale gratis immagino magari solo quella di monza nel 2019 io e david e gianfranco eravamo carichi 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 perché sapete no la ferrari andava bene c'era anche il grande evento a milano c'era il gran premio di monza dove poi ha vinto charlie claire non ci hanno tanto considerato perché ferrari era agli inizi proprio gli inizi primi primo mese primi due mesi di vita e noi eravamo una parte piuttosto nuova e quindi che ancora dovevano conoscere e non siamo potuti andare non ci hanno invitato tuttavia quest'anno enzo e david sono andati alla festa per i mille gran premi al Mugello non per vedere il gran premio ma per assistere all'opera teatrale non solo comunque all'opera magnifica che hanno fatto in toscana bellissimo davvero loro ci sono andati hanno preso anche la mascherina che tutti vogliono quella di ferrari della scudire ferrari ed è stata sicuramente una bellissima esperienza e sicuramente il lockdown ci ha aiutato tantissimo perché tantissimi hanno iniziato a vedere l'esport sotto un'altra prospettiva grazie soprattutto a charlie claire perché lui era con con noi diciamo andiamo avanti con davide rustico allora come è stato entrare nel mondo di ferrari e quanto guadagni attenzione questa è una cosa che mi avete chiesto in tanti e naturalmente so che è molto gradita come cosa un'altra video segui lo sviluppo di vettore di formula 1 no oppure ci sarà un impiego simulatore ufficiale ok questo non si sa non lo posso sapere la seconda domanda della seconda parte è stato fantastico entrare nel mondo ferrari ma perché sapete no ferrari e l'auto il marchio per eccellenza se guardiamo la storia della formula 1 la ferrari c'è dentro e come ferrari è è un posto dove un po tutti vorrebbero essere lo sappiamo quindi sono decisamente fortunato mi ritengo una persona estremamente fortunata ad avere questo tipo di lavoro e dopo due stagioni insieme quindi più di un anno e mezzo insieme posso anche dire che la prendo con molta più tranquillità perché i primi mesi erano veramente devastanti tipo di lavoro che ho fatto io che sto facendo io mi sta dando un sacco di soddisfazioni perché me le sto creando anche un po io al di fuori di ferrari stessa e questo mi mi dà un po più di fiducia nei miei mezzi quanto guadagno guadagno poco nel senso meno di un impiegato che lavora otto ore al giorno quindi 40 ore a settimana cinque giorni su sette se quello che volete sapere si guadagno meno di un una persona che lavora in fabbrica guadagnavo di più l'anno scorso più di 900 meno di 1100 ecco posto va bene quindi mi sono costruito tante cose oltre che mi permettevano di vivere una buona una vita migliore diciamo però effettivamente non vengo pagato l'ira di dio come molti magari pensano o comunque di più di quello che le persone pensano ecco per esempio davide un altro davide bocai o boca j ho iniziato a correre su acc e mi sto ritrovando a girare nei tempi che fanno nel gt world questo è interessante quindi nella parte reale la controparte reale ma ma poi vedo che sim driver girano due secondi due secondi e mezzo più veloce com'è possibile togliere così tanto tempo del reale questa domanda super 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 bella è normale perché nel reale hanno poche sessioni in quella pista e allenano magari il simulatore certo sì un simulatore diverso da quello che è acc magari è ac pro che è un'altra cosa che hanno soltanto i team o factor pro il fatto che nel reale tu hai le sensazioni di una macchina vera le condizioni di pista estremamente variabile per il vento per la temperatura per la gommatura e cose che nel videogioco sono simulatore sono simulate sì ma è lì la differenza la fa la pratica su un simulatore prendendo come esempio silverstone giri sei ore al giorno otto ore al giorno lì nell'evento nella gara ufficiale hai la tre ore di silverstone perché che la gara più un due tre ore di pratica massimo quindi hai pochissimo tempo per prendere scendere in pista e guidare non ti dico che nel reale possono scendere di due secondi e mezzo ma almeno di otto nove decimi chi lo sa non so la macchina va trovata il setup giusto cosa che puoi fare tranquillamente quando sei box comodo comodo sulla tua postazione sono due mondi veramente diversi da questo punto di vista se consideriamo i tempi proprio sul sul giro certo è che se poi si fa come un formula 1 2011 che gira 7 8 secondi più veloce nel virtuale rispetto al reale qualcosa forse sta andando un po troppo oltre francesco locatelli ci chiede innanzitutto quanta pressione c'è vi sentite come piloti su una vera monoposto quando gareggiate a questo livello e poi volevo chiederti se i video delle gare usciranno sul canale all'ultima domanda non posso purtroppo darti una buona notizia nel senso non credo spero magari quest'anno di poter fare qualcosa di diverso mentre la pressione siamo comunque in un team che si arriva ovviamente in un videogioco è la fine giocare ad un videogioco ma tutto quello che c'è dietro è veramente 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 reale difficile perché tutti vogliono essere al tuo posto sia dei piloti sia di chi gestisce il team sia di chi aiuta i piloti come nel mio caso è chiaramente tutti si sentono meglio di degli altri e non guardano non guardano le proprie esperienze le proprie cose come persone ce n'è tanta siamo personaggi che appaiono negli schermi e quindi che diventano automaticamente pubblici e che quindi hanno un peso in più sicuramente vi pagano per questo lavoro è una bella esperienza partecipare a campionati mondiali sì è una grandissima grandissima esperienza lavorare partecipare in un campionato mondiale come quello dell'e sport di form 1 come quello della gt world e sport assolutamente puoi lavorare per ferrari come ho detto prima è fantastico ma è un lavoro a tutti gli effetti toglierei le e virgolette domanda da parte di un mio ex compagno di classe delle medie grande guido guido da mini come vedi gli e sports fra dieci anni grazie della domanda li vedo super 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 che prendono il volo praticamente uno perché l'hanno già presi con altri giochi dota lol eccetera eccetera mentre per quanto riguarda noi abbiamo preso il volo l'anno scorso con il lockdown e col fatto che charl giocasse con valentino rossi che giocasse veramente è stato qualcosa di clamoroso li vedo bene nel senso penso che molti dei piloti che ci sono adesso tra dieci anni saranno magari dei coach magari faranno il mio lavoro ovvero analizzeranno tutti i dati che fanno che faranno i piloti del team in cui sono e alcuni continueranno magari ma immagina questo un sedicenne che approccia perché da sedici anni si può guidare comunque competere nei tornei un sedicenne che approccia da dieci anni accumulerà un sacco di esperienza avrà 26 anni 26 anni nell'e sport sono l'equivalente di un 42 43 comunque dell'età di Kimi Raikkonen è difficile diventa difficile perché i riflessi saranno diversi arriveranno sempre le nuove guardie che saranno costantemente davanti attaccate a un simulatore e occhio perché già succede ne parlo per esperienza personale perché conosco due tre persone due tre famiglie che stanno coltivando un pilota che adesso ha 12 13 anni e tecnicamente quando ne avrà 16 dovrebbe spaccare il mondo capito quindi c'è già questa mentalità di persone di famiglie che stanno coltivando il figlio per farlo competere nel nel virtuale Emanuele quanto influisce avere un buon volante vi chiedo scusa intanto se la se la mia faccia vi sta urtando ma sono stanco e ho dormito poco e male quindi scusate più c'è tanto io adesso ho staccato il mio vecchio volante il mio primissimo volante la differenza di sei decimi sei decimi negli esport sono tra il primo e il quarantacinquesimo ok sei diecimi sono tantissimi avere un buon set un buon setup è fantastico tuttavia consideriamo che in alcuni campionati come per esempio f1 esport tu sei costretto ad utilizzare fanatec è costretto ad utilizzare una versione che fanatec ti propone nel suo negozio questo è importante perché tu magari ti puoi comprare la postazione o il team ti manda la postazione tu sai che tutti giocheranno sul tuo livello con quella postazione quindi lì farai la differenza tu o la faranno gli altri nicodelfo mi chiede quanta emozione e orgoglio lavorare per la ferrari una domanda un po simile alle altre però ti posso rispondere che è fantastico è un sogno che si è avverato per me io davvero dalla vita ho pochissime altre cose da da chiedere e ne sono fiero veramente ne vado assolutamente fiero di poter dire una cosa del genere perché sento di avercela fatta come sento anche che quando ho avuto l'opportunità di correre effettivamente è stato il mio primo dei due lavori in ferrari non ho soddisfatto appieno me stesso questa è una cosa che mi porterò per un po di tempo ancora dentro tuttavia se lavoro ancora dentro il team un motivo magari ci sarà e questo motivo me l'ha dato ferrari mirco rotondo la tua più grande soddisfazione a livello esports bella domanda ne ho tante ne ho ne ho tante però probabilmente sapete quale la la mia prima mio primo approccio all f1 esport quando è nato nel 2017 quando dovevi fare il miglior tempo possibile con sergio perez a monza è stato il primissimo evento storico di f1 mi sono qualificato secondo dietro sven mio grande acerrimo rivale che adesso comunque è memico e mi ricordo che ero felicissimo ho saputo di questo evento quando ero a mangiare con f1 italian team mi pare a god house una cosa del genere vicino a monza perché c'era il gran premio di monza e hanno fatto questa cosa qua codemaster e formula insieme e mi sono qualificato subito sono qualificato subito quindi lì ho detto cavolo ma allora o la o un po di skill no perché l'isport era strasconosciuto nel 2017 per quanto riguarda i motori fammi un po provare fammi un po andare avanti sono qualificato anche con relativa facilità devo essere sincero e quella è stata l'emozione più grande veramente più grande lì mi sentivo veramente forte in quel gioco lì vi assicuro che mi sentivo veramente forte il più forte amos che io ricordi da quando gioca formula 1 insieme al 2013 14 davide vorrei sapere quanto conta allenarsi e avere fiducia in se stessi avere fiducia in se stessi tantissimo tantissimo è una delle cose più importanti forse la cosa più importante allenarsi conta tanto allenarsi conta tantissimo ne parleremo poi con altre domande ma davide denso per dirvi purtroppo per questioni di scuola di david non è che si poteva allenar tanto questioni di scuola anche di philip non è che ci si poteva si poteva proprio allenare tantissimo cecere 57 si possono trovare le stesse emozioni che trovi nella realtà anche nel virtuale oddio non abbiamo mai avuto tutte e quattro compreso anche philip esperienze tali nel reale da poterle comparare nel virtuale vi posso solo dire che dal mio punto di vista ho trovato ancora più faticoso guardare david ed enzo in facility che correre wet show mi chiede come ho imparato a fare setup e a guidare e se ho avuto un maestro oppure si ho fatto tutto da solo tutto da solo in realtà non ho mai avuto un maestro che mi che mi portasse sulla diretta via almeno per i primi anni avevo 15 14 anni quando ho iniziato nel 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ho fatto tutto da solo e poi dal 2017 mi sono messo mi hanno messo anzi in un team e con il team inizia a lavorare inizia a sentire che ci sono persone che aiutano e che non guidano comunque che ti aiutano a fare un setup e questa è una cosa importante perché tu dici cavolo ma siamo nel virtuale che serve uno che fa l'ingegnere no cavolo se serve serve tantissimo uno che si specializza in quel lavoro perché più si va avanti con il tempo ma anche giochi passati simulatori passati sono fantastici da questo punto di vista e più studiare il setup è una cosa fondamentale il setup perfetto ti fa trovare tipo quel decimo quei due decimi che ti fanno essere in cima o essere molto più vicino rispetto a quanto eri prima ed essere anche più confident queste persone servono tantissimo non ti so dire se ho avuto un maestro forse sì però questo maestro non so a un certo punto non so cosa gli hai preso non è più diventato mio maestro non è più stato mio maestro diciamo quindi no direi che mi sono costruito un po da solo con tanti pro e tanti contro sicuramente e per quanto riguarda imparare a fare setup sì adesso faccio anche lezioni private sì mi piace sperimentare mi piace tanto 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 sperimentare in gara non riesco mai a stare concentrato come potrei migliorare ciao lori martin allora cercare di focalizzarti su un obiettivo devi avere un obiettivo in quella gara io ad esempio quando sono in gara magari mi sto annoiando cerco sempre di fare il giro dopo come se avessi fatto il giro prima quindi cerco sempre di stare di essere costante di stare nello stesso centesimo millesimo o decimo ecco se va male riuscendo a fare tipo un 10 12 giri consecutivi in 12 decimi sono davvero molto fiero di me e quindi vedo che il tempo intanto passa passa tanto ed effettivamente mi fa rimanere concentrato ancora una volta 14 davide mi scrive se è utile guardare video per imparare oppure è meglio far da soli bella domanda anche questa per questo inserita anche se davide se è apparso due volte basta prossima volta non ti voglio vedere magari cambia nickname in realtà è meglio far meglio guardare video quindi guardare altre persone guidare e poi far anche applicare quello che fanno loro nel nel tuo stile di guida samuele bisogna sempre essere al top e quante ore servono per esserlo quindi quante ore di allenamento riservo pensate che quest'anno è stato difficile ne ho parlato prima purtroppo per motivi di scuola philip david erano chiaramente a scuola comunque da casa facevano le corsi comunque io ed enzo ce l'allenavamo dalle 10 eccetera eccetera ma comunque si stava sulle quattro sei ore al giorno quando piloti come quelli red bull o altri vedendo anche le ore di gioco su formula 1 poi magari lo lasciavano acceso è 24 ore su 24 ma hanno tipo il doppio delle ore questa è una cosa che chiaramente ci porta un po essere più tirati ma non possiamo fare altro che non facciamo andare a scuola david non facciamo andare a scuola philip insomma è difficile ovviamente allenarsi enzo con con me che comunque magari li crea soltanto la lobby perché dovevo fare un altro lavoro non potevo correre con lui era un po difficile indipendentemente da tutti i problemi che ha avuto l'f1 e sport quest'anno dove proprio siamo stati massacrati ma non per il punteggio ma proprio perché ogni gara ne avevamo una cavolo penso che proprio eravamo molto tirati da questo punto di vista e sicuramente con il doppio delle ore di allenamento saremmo stati più forti anche della no non saremmo mai stati più forti della sfiga antonio sapienza proverai mai a correre nuovamente per un team e sport domanda personale no no non credo proprio perché mi voglio concentrare con ferrari per il gt e per ferrari per quello che riguarda il gestire i piloti e sport e non solo forse ci saranno delle grandi novità per me sempre per quanto riguarda questo grandissimo brand questo grandissimo marchio e ne sarei assolutamente fiero non vedo l'ora di potervi dire di più davvero quando ci sarà la possibilità ve ne parlerò che l'angelo gli chiedi quali sono le tecniche che usi più nei simulatori portare il freno in curva questa è la tecnica che uso di più luca che mi chiede già ricevuto altre ah ecco già ricevuto altre proposte oltre alla ferrari ciao si ve ne ho parlato poco prima di un posto però come sim driver ma questo è stato particolare perché mi hanno proposto anche di essere parte di un team non da pilota quindi quello che sto facendo praticamente adesso forse anche forse anche coach non lo so lascio indovinare voi qui sotto nei commenti su youtube e anche a chi mi sta seguendo qui su twitch che team mi ha chiesto di entrare a far parte di loro matteo pia piane piane sola sì perché di anno in anno cambiano così tanto i valori in campo questo perché il gioco su form fisica quello cambia e quindi magari cambia un po la fisica e c'è chi si adatta di più c'è chi si adatta di meno damo secondo te l'e-sport diventerà un vero sport considerato da tutti il nostro mondo potrebbe andare anche nelle olimpiadi quando tutto si sistemerà questo è fuori discussione perché noi non non usiamo armi ecco le uniche nostre armi sono volanti e pedaliere da poter lanciare al limite sì credo che potrebbe diventare un vero sport considerando che molti ragazzi come me che magari un giorno avranno un figlio capiranno che se non puoi sfondare nel reale perché mancano questi nel virtuale probabilmente potrai far qualcosa ferrari f1 2020 attenzione attenzione qua e qua sei di parte eh prima di cominciare nel mondo esport eri consapevole che sarebbe stato difficile e faticoso no non faticoso a livello mentale non così tanto se devo essere sincero invece invece ti colpisce tanto ragazzi è a livello mentale è incredibilmente difficile sostenere tutto ciò difficile sì perché non sei l'unico al mondo sono sei siamo sei miliardi di persone non so quanti giocano un milione però comunque al primo evento eravamo 300 mila poi sempre di più e sapevo che sarebbe stato molto 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 difficile entrare nei primi 40 e poi nei primi 20 secondo te si può paragonare l'esperienza virtuale a quella reale se la domanda tu intendi nel virtuale reale tu sapresti guidare tu che guidi nei videogiochi sapresti guidare nella realtà io ti dico di sì il veloce come charles clerc come come i piloti reali di formula 1 e non non credo subito assolutamente no non credo assolutamente subito anzi ci metteresti tanto più tempo perché loro hanno un'esperienza diversa un percorso che è durato anni mentre loro sempre i piloti reali si potrebbero adattare con molta più facilità come successo ai al mondo dei videogiochi però se tu metti un ragazzo che conosce bene il virtuale e ci gioca da tanto tempo in pista reale la macchina la sa portare la macchina sa guidare comunque stefano zambroni quanti ragazzi quanti anni servono in media per arrivare lì dove sei quindi l'ho interpretata questa domanda partendo da zero se hai il talento proprio se hai proprio il talento sei nato per quello a 16 anni te puoi prendere un simulatore e boom ti qualifichi fa il tempo ma c'è un ma il talento senza allenamento non ti porta da nessuna parte facciamo un esempio abbiamo un pilota che è grezzo è un talento clamoroso ma non fa nulla che fare giri su giri veloci in due anni lo si può portare con allenamento costante sia fuori che dentro la pista virtuale lo si può portare a essere il migliore al mondo secondo me punti ad un posto più in alto nel tuo lavoro o ti va bene così mi va bene così sì non voglio mettere piedi in testa a nessuno lavorare sopra gli altri no sono veramente stra rispettoso delle persone che lavorano assieme a me piacerebbe tanto rimanere in ferrari la vita magari fa stare la mia vita all'interno di ferrari per costruire l'e sport assieme dato che la storia dell'e sport effettivamente è nata da quando sono anch'io dentro questo team è un qualcosa che non vorrei assolutamente lasciare e come non vorrei anche lasciare il coach che c'è adesso e non vorrei assolutamente mettere i piedi in testa a lui perché è sicuramente il migliore di me è molto più esperto si 15 anni in 15 anni vorrei diventare coach questo michael si abbiamo un mercato piloti che è quello del prodraft quando non ci sarà più prodraft se non ci sarà più prodraft lì dobbiamo scegliere per forza un pilota e il mercato piloti potrebbe essere un po più facile del solito roby demico qual è stata la gara più tesa la quale hai corso oppure assistito senza dubbio come ho detto prima a noi quindi la gara numero 3 del gran premio della stagione dell'e sport dell'anno scorso quella che ha vinto david fucsia la carlo vanzini perché le lobby e sport non si baggano mai perché voi non avete idea di quello che succede dietro le quinte ragazzi non avete idea di tutte le cose che ci sono successe di tutte le incazzature poi risate perché va bene risate nervose perché non avete idea non avete idea ragazzi idea di quello che è successo io ho passato metà della mia vita gli ultimi tre mesi a scrivere cose mi dico solo questo no 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 andiamo andiamo oltre differenze pratiche e tangibili tra giocare da pc e da console su pc il fatto è che tu puoi avere un po tutti i volanti che vuoi e pedaliere che vuoi non per forza collegate al volante ma collegate al pc su ps4 ps5 xbox one series x eccetera eccetera non puoi farlo ecco quindi questa è una grande differenza le periferiche di gioco che si vogliono utilizzare in più gli fps i frame sono importantissimi se vuoi avere quanta più fluidità possibile è limitato nelle console a 60 o 30 dipende dai giochi mentre su pc più è potente il tuo pc più riesci a sfruttare la fluidità del videogioco stesso del simulatore stesso poi ovviamente se ti serve anche un buon monitor un 144 hertz un 240 hertz che però costa tanto e lì riesci a sfruttarlo ovviamente tu hai un pc che ti fa 240 fps ma hai uno schermo da 60 hertz non fai niente cioè non gli sfrutti quei 240 fps diciamo se non avessi nulla da fare a che videogiochi giocheresti questa domanda un po chill sto giocando a far cry primer adesso e mi voglio dedicare più a un'esperienza videoludica personale che magari porterò anche su su twitch con un gioco che non c'entra niente nemmeno con fifa quindi nemmeno col calcio voglio proprio portare un'esperienza di gioco o parlarvi di di ciò che io ho sentito in quel videogioco per vedere un po come la prendete l'avevo già fatto nel mio precedente canale avevo fatto tutta la serie di the last of us serie anche sul wrestling ed era andata bene veramente veramente molto 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 bene vincere noi mondiali alla cazzo non vedo non vedo chi è consideresti ad altri di fare il tuo percorso sì lo consiglierei e credo che molti 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 di quelli che sono adesso dentro l'esport lo faranno lo intraprenderanno non è per tutti però questo posto ora voglio dire non è per essere quello che fa cose eccetera gli altri che non possono fare ma in questo ruolo serve capire molto 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 l'esigenza che ha un pilota ad essere veramente sempre disponibile non tutte le persone sono sempre disponibili e magari fanno finta di non rispondere eccetera io sono una persona troppo onesta anche che risponde chiede fa consiglierei questo lavoro ma non è assolutamente un lavoro facile questo è un lavoro dove devi essere presente 24 ore su 24 matteo vogliamo vederti competere hai in progetto di partecipare a qualche campionato questa questa qua ho voluto mettere perché sì non so assolutamente assolutamente che competizioni però sì voglio tornare a competere voglio tornare a competere nel sicuramente a ruote coperte voglio far qualcosa di di fatto bene tomitara perché secondo te molta gente sottovaluta agli esports basta guardare i commenti sotto i post di formula 1 lo aggiungo io formula 1 perché era una di quelle di quelle cose uno di quei video che vorrei fare no andare sotto i video sotto i post f1 esport e vedere i commenti bellissimi i don't care we don't care about this create una pagina che che sia esport che non ce ne frega un cazzo perché voi mettete f1 esport con f1 reale la fa f1 questa cosa qua ci sarà un motivo se la fa magari vuole anche mettere nel f1 reale no ci sarà no no niente non entra in testa che sta cosa qua è bella per quanto le gare effettivamente delle f1 esport siano trenini e qua non ci possono far niente perché se non cambiano la percentuale di durata della gara non faranno mai una sosta in più ma ne faranno sempre una la gara finisce con magari un sorpasso e box o al penultimo ultimo giro io io credo che la gente sottovaluta di questo mondo perché sai giocare alla playstation alla playstation ma durante lockdown siccome tutti erano a casa mannaggia brutta roba è sono dovuti tornare anche loro a giocare alla playstation invece di andare a figa perché ogni volta ci dicono ci dicono ma un po di figa invece di andare a giocare di stare davanti alla playstation no eh molte di queste persone hanno smesso di insultare questo mondo non sono così tanto ipocriti poi da tornare e dire vai a figa e no cavolo proprio tre mesi ho giocato alla playstation in lockdown e mo che faccio Giacomo Costa mi chiede una cosa che non ho ancora capito hai deciso tu di diventare team analyst o la ferrari due anni fa alla fine del del 2019 e non ho non ho chiesto di diventare io analyst io sono veramente autocritico io ho detto no no ho fatto una brutta stagione non mi merito la riconferma come pilota sicuramente non mi merito nulla scusate ho detto no mi faccio da parte prendete qualcun altro ferrari ha detto no amos sei praticamente una risorsa umana importante e ci vogliamo tenere con un altro ruolo pal 5 mi chiede che tipi di allenamento fate quelli che puoi dire ovviamente allora ci alleniamo molto sulle qualifiche come tutti i team del resto perché gli sport f1 solo qualifiche tante ore su quello altrettante forse un po meno sulla sulla gara perché la gara ha un aspetto minore sembra strano dire ma comunque ha un valore minore rispetto ad una qualifica perché poi ci sono q1 q2 q3 da valutare tutte e tre le sessioni e andiamo anche ad analizzare dove perde più uno in base alla telemetria in base ai video in base agli on board in base a un po tutto ecco diciamo quindi queste sono le cose che ti posso dire marco guma mi chiede come mi è nata la passione per l'e sport ma molto semplice io ho sempre sognato di diventare un pilota di formula 1 reale ma mi mancavano i soldi ecco la mia famiglia non è mai stata non dico d'accordo ma proprio fan del motorsport dunque oltre al fatto che mancavano i soldi quindi non avrei mai potuto far niente oltre kart come ho fatto da piccolino non avrei mai potuto far qualcosa di più non sarei mai potuto andare avanti quindi l'e sport pensavo potesse essere un ottimo modo per entrare dentro il mondo della formula 1 e così è stato così è stato perché sono riuscito a qualificarmi alla prima botta nel 2017 alla prima botta nel 2018 alla prima botta nel 2019 e poi a stare con ferrari quindi diciamo che l'e sport come la passione per l'e sport mi è nata dal desiderio e dal sogno di diventare un pilota di formula 1 ci sono diventato perché virtualmente ci sono diventato ma ufficialmente quindi è comunque qualcosa che si è avverato ecco senza dubbio questa domanda ottima perché secondo voi secondo voi quante persone lavorano nell'e sport come sim driver e quindi vi lascio 5 secondi per indovinare 3 2 1 60 persone forse vengono pagate pochissime veramente pochissime su 6 miliardi e poi ovviamente poi naturalmente il motosport è una roba di nicchia bla 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 però comunque sono poche quindi le persone che dicono state rubando i soldi agli altri basta no non è vero non è vero ci sono più youtuber che rubano il lavoro ok rispetto agli streamer eccetera eccetera Gabriele oh Gabriele che poi tra l'altro sei qua eccolo qua infatti è vero che di solito vengono presi pochi piloti perché molti sono già sotto contratto ecco qua sì ci sono tanti inciuci nel 2018 e nel 2019 c'era un buco del regolamento praticamente tu potevi dire che andavi alla al prodraft quindi a londra dopo esserti qualificato nelle gare multiplayer nelle gare online ma se rifiutavi il contratto con formula 1 non venivi squalificato dall'evento finale quindi dalla pro series nel 2020 questa cosa è cambiata quindi dopo due anni si sono accorti che tutti i team prendevano i piloti migliori e al prodraft andavano le promesse o altri tipi di piloti o persone che hanno deciso di non firmare con un determinato team perché volevano un'occasione maggiore magari all'interno del palcoscenico di Londra mentre nel 2020 se tu non firmavi il contratto per andare al prodraft venivi proprio squalificato dall'evento intero attenzione siamo all'ultima domanda ovvero di Gioele Gabrielli che mi chiede VR o triplo schermo? schermo singolo non va bene no eh ok tra questi io ti dico il triplo schermo perché il VR ancora non è supportato a pieno per quanto riguarda alcuni simulatori anche se il tuo corso di competizione è gioco nuovo non è supportato non è che supporta granché questo sistema VR mentre il triplo schermo io sì l'ho provato ti fa vedere ancora più cose ti mette ancora più dentro l'abitacolo io credo però che uno schermo singolo sia una soluzione comunque accettabile i nostri piloti potevano scegliere qualsiasi schermo potevano mettere anche più di uno schermo, triplo schermo, quattro schermi hanno preferito di scegliere uno schermo di 240 Hz unico così da poter vedere tutto in uno schermo quindi per me triplo schermo va bene ma anche uno va benissimo comunque bene ragazzi il video qui è terminato spero di esservi stato d'aiuto per tantissime domande questo video prendetelo un po' come punto di riferimento se volete iniziare il mondo del sim racing perché praticamente parlo di tutto, tutto quello che è bello, tutto quello che non è bello eccetera eccetera quindi da me, dal volante Ferrari e da in realtà una bellissima stanzetta con bellissimi quadri appesi e tutto noi ci vediamo prestissimo con altri video gameplay e non solo e buon anno ancora ragazzi, buon anno ancora a tutti ciao ciao